Siamo saliti fino a Miles, siamo una frazioncina del comune di Segosino e come sempre veniamo a trovare Anita Coppe qui nella sua osteria e devo dire la verità che l'aria che si respira qui è un'aria molto ossigenante, vero no? Certo, qua su si sta bene in tutte le stagioni, in realtà soprattutto adesso nel periodo estivo insomma si respira l'aria buona e fresca. Sì, siamo sui 700 metri e quindi qua di giorno si sta bene, di sera c'è sempre l'aria fresca. Senti, da Segosino arrivare qua quant'è? Sono 10 minuti in macchina, a piedi ci vogliono 40 minuti, ci sono dei bei sentieri da fare quindi si può lasciare tranquillamente la macchina. Ho visto tante biciclette, tanti ciclisti, passeggiatori insomma no? Esatto, ci sono dei sentieri, il trodo delle acque, ci sono la strada vecchia per Migliès quindi anche per chi vuole fare un po' di moto fisico e arrivare su affamato nessun problema insomma. Senti, dopo di che, dopo che hanno camminato o corso, so che fai delle grigliate che sono la fine del mondo qua. Sì, noi abbiamo il cammino a vista, quindi dentro in sale e appunto sì, una delle nostre caratteristiche è la carne alla griglia, quindi dalla grigliata mista, pollo, salsiccia, costicina. Sì, anche di domenica perché di domenica. La facciamo sempre, tutti i giorni, anche durante la settimana, adesso noi siamo aperti tutti i giorni, quindi sia pranzo o cena abbiamo la grigliata, la trovate sempre, abbiamo tagliata, costate, fiorentine, quindi diciamo che il punto forte qua è la carne e la griglia. Però abbiamo anche la pasta, i nostri primi, sono tutti fatti da noi, quindi tagliatelle. I gnocchi, noi abbiamo i gnocchi, tagliatelle, i ravioli, i gnocchi li facciamo con le nostre patate qua di migliese, quindi chilometro zero diciamo. È la nostra caratteristica, sì, perché appunto il terreno è un buon terreno, quindi sono perfette per fare soprattutto la pasta, insomma gli gnocchi. E accompagnate anche con la famosa grigliata. Senti, facciamo un brindisi perché il programma nostro. Lo sai, è con un brindisi. A chi lo dedichiamo? Beh, lo dedichiamo alla mia famiglia, nostra famiglia e poi tutti i nostri clienti che ci vogliono bene, che vengono spesso. Quali figli adesso hai? Siamo tre, con la nuova e ultima arrivata siamo a tre. Cine viva, allora all'Osteria Romolet qui a Migliese, siamo a pochi chilometri dal Segusino, in terra ancora a Trevigiana. Cine viva! Cine viva! Cine viva!